Musica Ultima di ritorno da dentro o fuori per Unipo Mezzia e Torsa Lorenzo, nobili decadute del torneo alla ricerca del risultato per rimettersi in gioco in chiave promozione. Fattore campo che sembra decisivo già dalle battute iniziali. Unipo Mezzia fa sentire il proprio peso con i calci da fermo, come al dodicesimo con Sabiu, pericoloso di testa ma di Renzo c'è. Al trentatresimo situazione simile, fascia opposta, Torri lancia uno spiovente, il rimbalzo tradisce la difesa ma non Cantisani che la piazza con potenza e precisione. 1-0 del capitano che con questa rete mette a tacere voci infondate sul suo futuro. Il Torsa Lorenzo abbossa una reazione scontrandosi con la solidità difensiva dei Crimson, come al trentaseiesimo con Musilli, bel sombrero all'avversario ma conclusione fuori misura. Nel secondo tempo gli ospiti rientrano più energici e determinati ma non cambia la trama della partita. Minuto 71, ancora Torri da calcio piazzato. Il suo destro stavolta è per Arena che stacca Imperioso ed insacca. 2-0 e déjà vu per la difesa ospite. Forti del risultato, i Crimson continuano in pressione. Al 75esimo, da poco dopo il centrocampo, Pitigoi fa partire una sassata impressionante, respinta però da Di Renzo. All'ottantesimo, ancora Unipo Mezzia. Servizio dalla destra sulla quale si avventa Sabio e Pallerrete. 3-0 in comproprietà con Arena, il cui ultimo tocco vale il 199esimo gol in carriera. C'è ancora tempo per Musilli, lanciato da Villani per il gol della bandiera. Tentativo di sinistro verso il secondo palo di poco a lato. Sulla punizione di Christian Bergami finisce il match. Sesta vittoria di fila in casa per l'Unipo Mezzia, che fa fortino al Selva Lepini. Per il torso a Lorenzo, decimato dalle assenze, una sconfitta che vale l'addio, forse definitivo, al sogno promozione. Oggi ho visto una squadra che ha combattuto fino alla fine, magari meno bella rispetto ad altre partite, tipo Norma o altre partite comunque in casa, ma comunque che ha dimostrato una gran voglia di vincere. Comincia a diventare difficile veramente mettere 11 giocatori in campo. tra diffidati, squalificati, infortunati, oggi ne mancavano 9.